Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presento la nostra nuova video recensione Sperimentale dedicata a Plants vs Zombies 2, il nuovo gioco di Electronic Arts uscito da pochissimo su Android Un gioco veramente interessante e un seguito molto atteso che su Android si è fatto attendere forse più del necessario Vi parlavo appunto di una video recensione, video presentazione in questo caso un po' particolare Stiamo provando il mini studio nuovo con la videocamera nuova Quindi non abbiamo ancora avuto modo di finire, di giocare approfonditamente il gioco Abbiamo già giocato molto al primo, il secondo per adesso non ci sembra che è diverso Tranne le micro transazioni presenti all'interno Direi di avviarlo subito, l'avevamo già aperto E vi alzo anche leggermente il volume Il gioco, vi dico già da subito che fa parte del genere Tower Defense In pratica noi avremo qualcosa da difendere, in questo caso la nostra abitazione Questo qualcosa da difendere va difeso con le piante, ortaggi eccetera Da questa orda di zombie Il gioco non ha assolutamente senso, la trama è simpatica, assolutamente abbozzata Non vuole essere abbozzata ma riesce benissimo nel suo intento Allora queste sono le opzioni, pochissime Abbiamo le opzioni della musica, le versioni della build e diverse informazioni Ma in pratica non potremo cambiare niente Con gioca possiamo andare direttamente sulla partita Partita che riprenderà esattamente da dove eravamo rimasti Cosa assolutamente eccellente Questo praticamente stiamo iniziando il nostro viaggio nel mondo Nel passato, praticamente alla ricerca del nostro tacos Per rimangiarcelo, ve l'ho detto, trama assurda Con la nostra macchina del tempo Questa sorta di camper Andremo in giro per le varie ere Ere divise in questi mondi E dove dovremmo appunto affrontare volta per volta Svariati ordi di zombie Abbiamo anche il negozio Ve lo mostro subito Negozio che ci permette di acquistare monete Che sono la valuta del gioco Valuta che può essere acquistata con soldi reali Acquistare migliorie direttamente con soldi reali o piante Come potete vedere Qui si fa forte l'elemento free to play Elementi acquistabili a prezzi piuttosto nella norma Né troppo bassi né troppo alti Per ora non ci è sembrato essere vincolante l'acquisto di elementi a pagamento Questa è la mappa del mondo interno Qua siamo nell'antico Egitto I mondi sono divisi per giorni Come potete vedere il livello è stato sbloccato Adesso passeremo al livello successivo Questo è il giorno 2 dell'antico Egitto Abbiamo già fatto tutto il tutorial Tutto il primo livello Siamo andati anche più avanti sul tablet Qua invece sullo smartphone abbiamo appena iniziato Stiamo provando sul Nexus 4 Assolutamente senza nessuno scatto Gradevolissimo Se avete un tablet magari anche solo da 7 pollici Naturalmente l'avventura sarà più gradevole Adesso ci verrà introdotta una nuova unità Una nuova funzionalità più che altro Abbiamo il ricostituente Che dà nuova vitalità alle nostre piante Per distruggere decine e decine di zombie L'uno dall'altro Questo è un nuovo tipo di funzione Che non esisteva nel precedente Plants vs zombie Che serve appunto A vivacizzare e aggiungere elementi di gioco Come potete vedere Gli zombie brillanti Hanno in dote questo costituente Questo ricostituente Che serve appunto Nel caso del nostro Monopianta Che spara una sola pallina alla volta Gli farà sparare Un'intera raffica di palline Ora arriva L'orda E parte il nostro secondo giorno Mettiamo i girasoli Girasoli che sono le nostre fabbriche di energia Energia che ci serve Per costruire qualsiasi cosa All'inizio della partita è sempre bene fare una scorta Di Piantare una serie di Girasoli In modo da potersi garantire Un buon approvvigionamento Di energia Energia che comunque cala anche Dopo un certo tempo Dallo schermo di gioco Come potete vedere Sono sempre queste Pannelli Queste palle A forma di sole Adesso abbiamo messo anche Il Questa bomba Questa bomba che si attiverà dopo un po' di tempo Che ci serve per prendere Qualche secondo In modo da allestire Tutta la nostra fabbrica Di luce Solare Poi ognuno può Utilizzare le proprie strategie Ok Abbiamo altre unità Abbiamo Oltre ai girasoli Abbiamo per esempio La patata La patata rallenterà il nemico Ma non lo attaccherà Poi vi ho già fatto vedere Il detonatore Ma esistono Tantissime unità Diciamo che Quelle più forti Possono essere Aspettate Vi faccio vedere L'utilizzo del Ricostituente Dato che quella è un'unità Molto molto forte Abbiamo preferito Utilizzarlo subito Oltre a dover Spendere energia Durante Le battaglie Dovremmo anche Aspettare un certo Quantitativo di tempo Per Piantare Una pianta Della stessa serie Di unità Per esempio Lo spara palle Dovrà Per forza Essere utilizzato Dopo un toto di tempo Stessa cosa per la patata E con tempo E con tempo Molto lungo Mentre i girassoli Hanno tempo di Rigenerazione Molto corto Adesso Facciamo la nostra Seconda serie Di Spara palle Mentre in alto Come potete vedere Abbiamo La barra Che ci indica Invece Altri elementi Quali L'arrivo Dell'orda L'orda può arrivare In diversi Una o due volte A livello Viene indicata Sempre da una bandiera E lo zombie Praticamente Uno zombie A schermo Ci mostrerà Questa bandiera A simboleggiare L'arrivo Di Questa Orda O queste Molteplici Orde Eccole che stanno Arrivando Mettiamo già Qualche altra Unità Ok Mettiamo Qualche copertura Dovremmo già Essere a posto A volte La luce sorale Come per esempio Qua in Egitto Può essere Sfuggevole E può scapparci Come potete vedere Era animata Di rosso E la luce Ci scappava Tra le mani Devo dire Che per adesso Tutto abbastanza facile Usiamo anche Il costituente Anche se non ne avremmo Bisogno Sinceramente Ma ce ne avanza Ok Livello Concluso Ogni fine livello Avremo un bonus Un bonus O qualcosa di particolare Che ci Permette Di andare avanti Nell'avventura Per esempio Ci è stata Fornita La cavolpulta Una catapulta Praticamente Scaglia cavoli Contro il nemico Superando gli ostacoli Questo Va a superare Gli ostacoli Immessi davanti E magari anche Lo stesso Qualche zombie Messo a blocco Vi saluto Vi ringrazio Per averci seguito Questa È la nostra Prima Videoprova Videorecensione Con nuovo materiale Lo studio Dobbiamo ancora finirlo La macchina È già quella definitiva Le luci Ci sono quasi tutte Ma non ancora Proprio tutte Infatti Se l'ambiente È ancora un po' Buio Ci scusiamo Vi saluto Da Alessandro Per Nexus Lab